Non si facevano nessuno scrupolo a spacciare droga, per lo più marijuana e cocaina, a minorenni davanti alle scuole o nei punti di maggior ritrovo come il Pincio o la stazione dei treni. Enzino e Vapi, questi nomignoli dei principali indagati, ora però non potranno più farlo. Ci hanno pensato i carabinieri di Colli al Metauro, assieme ai colleghi di Monteporzio e della compagnia di Fano, coordinati dal tenente Luigi Grella, a stroncare il loro fiorente e redditizio traffico. In totale l'operazione Enzino e Vapi ha portato all'arresto di sette persone e dalla denuncia in stato di libertà di altre sei figure minori, sempre con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e dal sequestro di oltre mezzo chilo di marijuana e un etto di cocaina pronta per essere tagliata in dosi. Numerosi gli adolescenti, oltre una ventina, che sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di droga e saranno sottoposti ad uno specifico programma di recupero. A portare i militari sulle tracce degli spacciatori un sequestro di 50 grammi di marijuana, nove mesi fa a quattro minorenni di Monteporzio, segnalati poi alla procura dei minori di Ancona. Le indagini, ad opera dei carabinieri di Colli al Metauro, portano dritte dritte ad un pugliese, un giovane di 33 anni domiciliato a Marotta, nome in codice Enzino, già nel mirino dei militari, il quale pur essendo titolare di una modesta pensione aveva ben deciso di aumentare le entrate, allestendo una fiorente attività di smercio di droga. Enzino viene beccato con 10 grammi di cocaina appena comperata a Calcinelli e scattano così per lui le manette, ma dopodiché viene subito rilasciato con l'obbligo di firma. Ma il lupo si sa perde il pelo ma non il vizio e così, in barba alle restrizioni del giudice, continua imperterrito nella sua azione di spaccio. Anzi, l'intensifica pure a tal punto da diventare ben presto il punto di riferimento di molti assuntori minorenni, sia di Fano che dei dintorni. Ma Enzino non lo sa che i carabinieri gli stanno le calcagne e dopo un mese di pedinamenti ed il sequestro di numerose dosi appena cedute a una decina di acquirenti, sotto casa sua a Marotta scattano per lui nuovamente le manette, colto in flagrante, mentre vendeva 10 grammi di coca a due giovani, di cui uno minorenne. In casa sua i militari, dietro il forno, troveranno la sua Santa Barbara, 400 grammi di marijuana già in dosi, bilancini di precisione e sostanze per il taglio e materiale per il confezionamento delle dosi. Ora per il 33enne pugliese si sono aperte definitivamente le portere del carcere di Villa Fastigi. Con la fine in carcere dello spacciatore però non si sono chiuse le indagini, perché Enzino la roba la doveva pur prendere da qualcuno e quindi i militari hanno cercato il livello superiore della scala, il fornitore. E qui troviamo il secondo nome dell'inchiesta, Vapi, 24enne, di origini macedoni, ma residente a Calcinelli, che per tirare a campare fa lavoretti saltuari, che secondo i carabinieri sarebbe il fornitore principale di Enzino, assieme ad un suo coetaneo albanese, arrestati entrambi nella zona di Colli al Metauro, di rientro da Perugia, dove erano appena stati a fare un carico di un etto di cocaina. Beccati anche i loro due, diciamo così per dire, portaborse, albanesi anche loro, uno in loro compagnia e l'altro beccato sotto l'arco d'Augusto, mentre vendeva quattro dosi di cocaina a una cameriera fanese. Con l'operazione Enzino e Vapi, i carabinieri hanno così stroncato una fiorente attività di spaccio soprattutto mirata ai minori, che aveva generato un giro di denaro da oltre 20.000 euro al mese.